Allora, nell'ambito delle cosiddette eccezioni del diritto d'autore, come vi ho detto se ne potrebbero vedere tantissime, però soffermandosi su quelle che interessano più sul piano della ricerca e insegnamento, allora, già abbiamo speso molte parole su articolo 70, ma abbiamo subito dopo dei nuovi articoli figli della direttiva europea, come vi ho spiegato. Allora, diciamo, aprile 2019 è stata approvata la direttiva, si lascia tempo agli Stati membri, solitamente un paio d'anni, per recepire i principi della direttiva, noi ci siamo arrivati un po' in ritardo, se non è che c'è stata anche una minaccia di procedura di infrazione, comunque finalmente a novembre, 8 novembre, il Consiglio dei Ministri approva il decreto 177.2021 con tutti i nuovi articoli che devono andare a inserirsi nel testo della legge sul diritto d'autore, la nostra 6 trattata del 1941, per appunto importare i principi della direttiva europea nel corpus normativo italiano. Tra questi, una delle novità, diciamo, in ottica utilizzatori di opere, non tanto in ottica di titolare dei diritti, è proprio quella relativa alla nuova eccezione sul text and data mining. Ok, quindi, text and data mining, mining nel senso di estrazione, di estrarre valore da testi, da dati. Ok, quindi, dicevamo, scusate che stavo riprendendo la slide, questi nuovi articoli sono i 70 terri e i 70 quater, approvati lo scorso novembre, nello scorso 8 novembre, e introducono queste nuove eccezioni di diritto d'autore, quindi nuovi spiragli all'interno dei quali gli utilizzatori di opere dell'ingegno possono muoversi. E vediamo quali sono questi spiragli e come si applicano. L'articolo 70 ter, il primo dei due, dice che sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell'estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o da altri materiali contenuti in rete o banchi di dati cui esse hanno lecitamente accesso. Questa cosa interesserà molto a Elena Giglia, che vi parlerà domani di altre cose, che però sono strettamente legate a queste, perché insomma fare ricerca scientifica comporta anche non solo produrre dati, ma anche utilizzare dati fatti da altri ricercatori prima di noi, e poi da altri autori prima di noi, e in questo caso parliamo non tanto di utilizzare i dati, ma proprio di estrarre dati da, ad esempio, un testo, da un'opera scientifica letteraria. E vedete, di testo e di dati da opere o da altri materiali contenuti in rete o banche dati cui esse hanno lecitamente accesso. Quindi se parliamo di una banca dati, deve essere una banca dati a cui io ho lecitamente accesso. Quindi se già utilizziamo una banca dati che abbiamo craccato, di cui abbiamo una password non riconosciuta, non corretta che ci è stata data da qualche sito di password per accedere a contenuti online legalmente, è chiaro che già siamo fuori dall'ambito di questa eccezione al diritto d'autore. Se invece la banca dati è una banca dati a cui ho accesso lecitamente, allora posso fare queste cose qua, cioè riprodurre, le riproduzioni compiute da organismi di ricerca, quindi deve essere un organismo di ricerca o un istituto di tutela del patrimonio, dopo abbiamo la definizione, ci spiega bene che cosa si intendono per questi due concetti, però insomma mi sembrano abbastanza autodefiniti, gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale. Ai fini dell'estrazione per scopi di ricerca scientifica, di testo o di dati. Ai fini della presente legge, per estrazione, ecco queste sono le due definizioni, cioè ci dice che cosa si intende per estrazione e ci dice che cosa si intende per istituti di tutela del patrimonio. Nel comma 2, ai fini della presente legge per estrazione di testo e di dati, si intende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini o dati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni dirette, ad acquisire nuove conoscenze e a rilevare nuove tendenze. Questa è quindi la definizione legale, la definizione legislativa di text and data mining, estrazione di testo e di dati. Quindi vedete che riguarda i testi, ma anche suoni, anche immagini o dati. Il comma 3 ci definisce che cos'è un istituto di tutela del patrimonio culturale, ci dice che si intendono le biblioteche, i musei, gli archivi, purché aperti al pubblico o accessibili al pubblico, inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonché gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di radiodiffusione pubblici. Anche qua ovviamente inizierete a valutare se un ente come il vostro rientra o meno nella definizione. Vado avanti nel commento della norma e poi facciamo le valutazioni tutte alla fine. Il comma 4 ci dice che ai fini del presente articolo per organismi di ricerca, c'è l'altra definizione che ci mancava, si intendono le università, comprese le relative biblioteche, quindi una biblioteca universitaria viene considerata organismo di ricerca e non tanto istituto di tutela del patrimonio, oppure gli istituti di ricerca o qualsiasi altra entità, quindi molto ampia definizione, lascia il campo aperto, ma che rispecchi queste due, che riporti queste due condizioni. A. La prima condizione che devono avere come obiettivo primario è quello di condurre attività di ricerca scientifica oppure svolgere attività didattiche che includono la ricerca scientifica. B. Perseguono finalità di interesse pubblico, non hanno scopo di lucro, oppure reinvestono gli utili nell'attività di ricerca scientifica, anche in forma di partenariato pubblico-privato, senza possibilità di accesso su base preferenziale ai risultati generati da detta ricerca scientifica a beneficio di un'impresa che esercita un'influenza dominante su tale organismo. Questo perché a volte negli enti che vengono chiamati anche no profit, quello che volete, però sono degli enti no profit che hanno comunque dietro un controllo chiaro da parte di un ente di carattere invece commerciale, di un'impresa commerciale vera e propria, e quindi lì dobbiamo un attimo valutare. Però ecco, già abbiamo capito che queste nuove norme aprono un po' di spiragli nuovi per chi fa l'attività di ricerca scientifica e di promozione del patrimonio culturale. Aggiungere l'articolo, come vedete, sono articoli molto lunghi. Il comma 5, le copie di opera o di altri materiali realizzati in conformità al comma 1 sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate e utilizzate unicamente per gli scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca per il tempo necessario al loro utilizzo. I titolari dei diritti, comma 6, sono autorizzati ad applicare misure idonee a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati di cui sono ospitate le opere e gli altri materiali, comunque non eccedenti quanto necessario allo scopo. Le misure di cui il comma 5, 6 sono definite sulla base di accordi tra l'associazione di titolari dei diritti, gli istituti tutelare patrimoni e organismi di ricerca, sono nulle, queste sono norme un po' tecniche, forse anche un po' noiose in una situazione, in un corso come quello di oggi, però questo è utile invece, il comma 8, sono nulle, le disposizioni contrattuali in contrasto con il presente articolo, cioè se ci sono contratti che aggiungono dei vincoli, che contraddicono questi principi, vengono considerate nulle, per evitare che in situazioni in cui c'è una parte che ha un potere contrattuale molto forte e quindi può imporre delle norme ulteriori e più vincolanti, più stringenti, allora stabilire che le disposizioni contrattuali sono nulle a priori garantisce che queste libertà, questo caso di libero utilizzo, eccezione dal diritto d'autore, rimanga concreto, reale, non venga vincolato, non venga ristretto attraverso vincoli contrattuali. Occhio che però c'è subito un punto dolente in questa nuova eccezione sul text in data mining, che è questa parte che ho segnato in rosso, nell'articolo successivo, articolo 74 del nuovo testo legge sul diritto d'autore, fermo restando quanto è previsto dell'articolo 70 ter, quindi quello che abbiamo letto prima, questi otto commi abbastanza lunghi, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni effettuate da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche dati a cui si ha legittimamente accesso ai fini delle estrazioni di testo e di dati. Però l'estrazioni di testo e dati è consentita quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché dai titolari delle banche dati. Cioè, purtroppo, tutte queste belle cose che abbiamo detto possono essere disinnescate semplicemente con un atto di riserva da parte del titolario dei diritti. Cioè, colui che vi fornisce la banca dati può indicare nella licenza, nei termini d'uso, che non vuole che vengono esercitate le libertà, le eccezioni dell'articolo 70 ter e quindi sostanzialmente viene tutto disinnescato. Bisogna vedere di volta in volta se il titolare dei diritti ha espresso questa riserva a non far scattare diciamo le libertà dell'articolo 70 ter è un po' quello che succede faccio un parallelismo quando leggete gli articoli su un giornale di informazione su un quotidiano che in fondo gli articoli trovate riproduzione riservata perché lo mettono? Perché nell'articolo 65 quelli che non abbiamo letto insieme perché non riuscivamo a commentarle tutti c'è la possibilità di riprodurre gli articoli del giornale liberamente ad alcune condizioni salvo che i titolari di diritti si riservino di escludere questa possibilità e quindi mettendo questa dicitura riproduzione riservata disinneschi l'eccezione di libero utilizzo che c'è nell'articolo 65 seguenti ahimè il comma 2 ci dice che infine le riproduzioni e le estrazioni eseguite senza il comma 1 possono essere conservate solo per il tempo necessario a fine dell'estrazione di testo e di dati abbiamo comunque commentato anche questi articoli questi nuovi articoli vedremo cioè sono troppo nuove per capire qual è il loro impatto e per capire anche quanti dei titolari dei diritti dei fornitori di banche dati si riserveranno o meno l'opzione che abbiamo letto nel comma 1 dell'articolo 74 da 4 binial si nik